Bella a tutti ragazzi, nuova sfida per gli eroi controllabili, andiamo a vedere la sfida Grande Arrivo Grande Arrivo dove troviamo il Gran Sorvegliante che dice Capo, compagni eroi, ho fatto una scoperta terribile Ci sono dei biscotti malvaggi che stanno spargendo il caos ovunque, ma va? Quindi, con il Gran Sorvegliante partiamo, mettiamo il Gran Sorvegliante orientato a terra E liberiamo i Goblin che vanno a prendere subito il Castello del Clan Ok, andiamo a colpire qua, questi Bocciatori, eliminiamo questi Bocciatori Eliminiamo quel Pecca Ok, eliminiamo il Pecca Liberiamo il Curatore di qua Vecchiamo l'Inferno Vecchiamo l'Inferno Ok Vecchato l'Inferno Andiamo di qua, via A liberare Quest'altro Pupasso Curatore Ok, ora con tranquillità verso il centro ragazzi Anzi, aspetta, aspetta, possiamo liberare di qua prima, visto che ci siamo Andiamo a liberare di qua Slip e verso il centro Verso il centro Continuiamo verso il centro Liberiamo la Spell Spell Liberiamo Mongolfiera Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Ok, abilità del Gran Sorvegnante E puntiamo verso l'invisibilità Puntiamo verso l'invisibilità ragazzi Ok, attivate l'invisibilità Via verso le bombe Siamo coperti Ed efficaci Con questo metodo ragazzi Arrivano le tre stelle Su questa nuova sfida Spero che il video vi sia utile Per completare questa sfida ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi al canale Molto importante Per permettermi di portare questi contenuti Ci vediamo con la prossima sfida La numero 19 Bella a tutti